Io credo che oggi è un giorno di lutto per tutto il paese, anche per i suoi avversari e credo che lo abbiano anche dimostrato con tutte le manifestazioni accorate per questa grande mancanza. A Silvio Berlusconi si è ispirato come imprenditore prestato alla politica, per questo si è riscritto a Forza Italia ai tempi del suo fondatore e vi è rimasto una decina d'anni. Renato Ancorotti, imprenditore cremaschio e attuale senatore di Fratelli d'Italia, ricorda l'importanza del politico che ha segnato la storia di questo paese. Io direi da berlusconiano perché il mio ingresso in Forza Italia è stato proprio dettato dal fatto che io ero berlusconiano che rappresentava l'industria italiana, un grande imprenditore prestato alla politica e questo mi aveva dato forza per entrare nella coalizione di Forza Italia. Berlusconi per me ha rappresentato davvero un cambiamento in Italia, può piacere o può non piacere, si può essere vicino alle sue idee o lontani dalle sue idee, però credo che tutti non possano che riconoscere che Berlusconi ha cambiato il vostro in questo paese e l'Europa che abbiamo la dobbiamo anche a lui. Dopo la parentesi berlusconiana è ritornato a casa in Fratelli d'Italia, ci spiega, essendo stato iscritto negli anni 70 nelle file dell'MSI. Forza Italia continuerà a costituire un tassello importante all'interno della coalizione che governa il paese, garantendo quell'equilibrio e quella spinta liberista, europeista ed atlantista che era nel cuore del suo fondatore. Sì, devo dire che il ruolo di mediazione di Berlusconi è sempre stato forte, ma credo che anche in Giorgio Meloni tutto questo sia stato non solamente recepito, ma assolutamente portato avanti. Sono le stesse idee da due angolazioni diverse, ma ritengo assolutamente che la coalizione sia forte e molto salda. Noi abbiamo il dovere di rafforzarla in questo momento per le sfide che ci aspettano.